Dandy Black e Blue Just for Balboa, il carry blue terrier di Roberto Tasselli, da Suzzara, Mantova, come decretato dal giudice internazionale Gioacchino Murante, è il cane più bello della 52esima esposizione internazionale canina organizzata dal gruppo cinofilo padovano alla fiera di Padova che si è tenuto nel weekend. Protagonisti 2350 cani di 208 delle 339 razze esistenti provenienti da 15 paesi, tra cui Russia e Stati Uniti. Ed è stata visitata da circa 6400 persone. Non solo vanità in gara, ma si è potuto vedere 10 gruppi di cani, 31 mostre speciali di altrettante razze e 9 raduni di razze. Per valutare la rispondenza tra gli esemplari in gara e gli standard di razza, sono stati chiamati a Padova 26 giudici internazionali provenienti da 9 differenti paesi. Tra le particolarità dell'esposizione padovana, le esibizioni dei cani specializzati nella ricerca di persone scomparse e in prove di protezione, escorta di bambini e adulti, curate dai volontari del gruppo cinofilo sportivo Il Gelso di Padova. Un successo quello della Due Giorni Canina che conferma la passione italiana per gli amici a quattro zampe, che vede presenti nel bel paese circa 14 milioni tra cani e gatti. Un notevole giro d'affari, si pensi solo che per gli alimenti per cani si registra una spesa indicativa di circa 838 milioni di euro. Di recente è stata anche cambiata la legge in caso di pignoramenti, che fino ad oggi ammetteva anche la possibilità di ammettere all'asta gli animali da affezione. La legge cambierà così, saranno impignorabili gli animali da affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.